e lo dico io ci penso io che sono jesui don pino e noi siamo una grande famiglia a proposito le lasagne quelle famose lasagne volevo dire che erano un po indigeste ma d'altronde la crepe che ci volevano dare loro secondo me era di cattivo gusto charlie aspetta che ti do la pastiglia ecco qua no non è pericoloso questo è di una razza per usci e tiene anche il pedigree arrivo sì ce l'ho detto ce l'ho detto voi qua non potete entrare presto presto molto presto ci conoscerete grazie